Ciao a tutte, riaccomi con un nuovo video, questo brevissimo video vi voglio far vedere come ho addobbato l'ingresso di casa mia a tema pasquale, appunto utilizzando tantissime di queste uvette facilmente acquistabili nei supermercati o nei negozi di oggettistica come il fai da te e il brico. Vi lascio al breve video e ci vediamo al prossimo video noi, ciao! Ecco come vi dicevo il mio ingresso pasquale, qui c'è il vaso in cristallo con dentro dei fiorellini realizzati seguendo un tutorial su youtube e questo è il ramo con tutti gli ovetti appesi. Li centrali possiamo vedere i quadretti realizzati nello scorso tutorial con un coniglietto, dei porta lampada, porta lumino in ottone con delle paperelle ovviamente dentro ho messo un foglio rosa per poter dare appunto un po' di colore, poi questo piattino dell'IKEA con dentro del potpourri e delle uova decorate con dei cioccolatini dei fiori di origami sempre ed ecco il dettaglio di alcune uova con il coniglietto ecco qui arancione ce n'è molti simili poi ogni tanto qualche piccolo fiorellino e questo lilla che è il più bello ecco qui e questo è l'alberello nell'insieme eccolo qui va bene spero che questo video piccolissimo brevissimo vi sia piaciuto e ci vediamo per il prossimo a presto ciao ciao